San Gennaro San Gennaro mia potente prega addio per tanta gente San Gennaro mio protettore prega addio nostro signore Cappella del tesoro significa cappella delle reliquie che in questo caso sono le ossa del cranio di San Gennaro e le ampolle con il sangue e vi do il benvenuto nei luoghi che ospitano il tesoro e raccontano la storia di 500 anni di partecipazione di fede e di devozione al Santo Gennaro nacque intorno al 275 d.C. a Benevento la città di cui divenne Vescovo Gennaro 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 Miura era sempre stato molto credente per questo volle rendere omaggio al Santo donando questo ostensorio in argento dorato e pietre preziose Gennaro E che fate? Ben andato, io non ho capito No, scusate se vi richiamo Ma guardate che anche io faccio parte Della storia del tesore San Gennaro Ma mi presento Mi chiamo Giuseppe Navarro Grazie a tutti 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 Grazie a tutti